Amore, non ti ci mettere anche tu. Lo so, è la terza volta quest'anno che mi hanno fregato la macchina, ma la colpa è mia. E dai, ti prego. Non... Amore. Va bene, fammi chiudere che devo chiamare i carabinieri. Va bene? Ciao, ciao, ciao. Eccitoso. Ma, e scopra. E lo so. Uda, ufa, te. E stamci. Beh, dai, rispondi, dai. Sì, però, se fai un po' le casche, tu. Pronto, buongiorno. Sì, stazione Carabinieri. Sì, salve. Senta, dovrei denunciare il furto di una macchina. È la terza quest'anno. Mi può passare il carabiniere competente? Un attimo solo. Abbiamo un collega competente. Competente. Palterre, Sardelle, Cascione. No, non c'è nessun competente. No, no, Cascione, Sardelle e Palterre. No, no, non c'è nessun competente. E forse è un'altra case. Forse, proprio in un'altra parte. Buongiorno.